bello ragazzi sono misteruco99 e sono con facco ecco e siamo su minecraft in questa adventure map che deve essere figa basta picchiarmi abbiamo in mano un libretto che rules quindi regole c'è scritto non piazzare blocchi non gittare non usare i trucchi non cambierà la tua game mod puoi spaccare i blocchi e se sei in adventure mod adesso io metto pacco in adventure mod ah comunque guarda che c'è un'altra pagina ok ci sei un'altra pagina c'è scritto per il multiplayer se stai giocando con altri state sempre insieme non non dividetevi soprattutto quando dovete risolvere i di pazzo ok allora difficoltà mettiamo normal poi ok c'è mod 2 le setting che sono giuste e va bene potremmo cliccare il tasto start 3 2 1 se magari non ti metti davanti figa ok siamo in un pranzo scena qua io dormirei qui qua c'è un libro però lo leggiamo dopo vai dormiamo ci sei sto già dormendo anch'io ok ok mi fai leggere il libro allora bad dream bad dream brutto sogno non stai sognando parla di un castello di una prigione e parla della tua esecuzione oh c'è uno sotto che cazzo è qua guarda sotto aspetta sembra essere un sogno fortunatamente sei tornato nella tua piccola casa dove c'è la pace e la pietra guarda che c'è uno sotto si chiama innocent pigla piglet solo quando hai finito di leggere ok qua c'è una chest un altro libro see you later see you later lo leggo coprimi nel caso di zombie o cose varie vai vai no non c'è un cavo questo sogno questo sogno scherzo sogno è vecchio fortunatamente sei il ultimo di questa esperienza di questa esperienza tu hai aspetta hai un minuto per uscire da da questa stanza sta per bruciare stai prendendo fuoco wow 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 dove è l'uscita qua trovata 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 vieni qua c'è un blocco di vetro spaccalo spaccalo è una figata ok un'altra welcome benvenuto vai leggi aspetta ok perché c'è un lazzo un guinzaio lo prendo io e due torce prendilo prendilo tu prendi gli oggetti io leggo è scritto always check hopper to see if you find something guarda sempre le tramoglie perché potresti trovare qualcosa ah ok allora oh mio dio ma è lunghissimo welcome allora benvenuto in dead row perché si chiama così sembra un inusuale incredibile miracolo di una persona casuale che vuoi aiutarti a trovare l'uscita da questo posto stai per essere eseguito stanno per organizzare la tua esecuzione in due o tre giorni tu sei un un completamente innocente nella tua cella per favore rimanici price dollarack quello che ti ha buttato in prigione qua c'è una un'ascia qualcuno ci ha mandato un'ascia ma dove? l'ho presa era lì dentro guarda qua oh qua c'è qualcosa vieni qui c'è una è una fence vai spaccala andiamo giù andiamo giù ok stiamo fuggendo di prigione raga che ha che akab akab qua c'è una scala dai spacca anche qua ok se sembra quello dei pokemon usa taglio usa taglio oh c'è un'altra moggio ho trovato dell'argilla capito? ahah ho trovato dell'argilla e mi si è rotta l'ascia eh qua c'è un una leva ok tienila eh l'innocent piglet dobbiamo portarcelo via o? lo tengo io vabbè lo teniamo insieme no ok non si può ok allora io ho la leva della vita ma che figo guarda sto quadro c'è un eh ho visto si può anche girare se vuoi aspetta no no andiamo giù c'era una porta prima vero? giusto io mi sto portando dietro al baiale però eh si tanto dopo che facciamo un bel kebab e via oh mi hai fatto il telefono lol oh vieni vieni ho aperto la porta con la telefona un secondo ok ci sono vai vieni ho preso la qua c'è no quasi andiamo insieme verso di qua si si ma è deciso di non perdersi mai dove sei andato? eh torna indietro eh ma qua siamo chiusi no no dove cazzo va? il piglet oh mio dio ok aspetta il piglet ah no c'è anche di qua la strada ok andiamo di qua aspetta andiamo di qua c'è una scala di qua ok oh cazzo oh cavolo cos'è sta roba che ficata una barretta una tramoggia cosa c'è? un libro una carota un'argilla ok passami il libro tenghi dai ok nota 1 i prigionieri lasciano giù delle note no il piglet è uscito via eh vabbè fa niente comunque c'è scritto che lasciano 5 note in totale i prigionieri tu li devi trovare tutti e se le trovi tutti sei sei praticamente hai vinto praticamente come me non penso eh eh dato che c'è Dorelac che era quello che ci ha messo in prigione perché ha detto se eh chi pensa che sta diventando eh chi pensa di diventare un principe eh deve sapere le regole del mondo deve leggere questo eh senza farsi vedere dalle guardie e senza avere le mani sporche vabbè allora adesso cioè ci dovrebbe essere un'altra boggia cos'è che avevi trovato dentro è una carota il libro la carota forse devi attrarre l'innocente piglet eh l'ho già fatto ma non viene vieni qua bravo vieni 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 ok ok ora che cosa dobbiamo fare con il piglet si può uscire oh bella aspettami vieni 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 oh mio dio sono lentissimo qua c'è scritto gameplay hint before you jump down in a hole push the pig down first ah dobbiamo far cadere prima il piglet di sotto ah qua c'è la nota 2 e qua 4 pesce la nota 2 dai prendi un po' di cibo che la nota 2 è di ecche io mangio ha scritto ecche mi sono dimenticato di dirti il mio nome probabilmente non ti interessa ma voglio presentarmi sono ecche sono venuto da delle isole nordiche e ho nella mia nel mio piccolo business sono venuto qui ho scritto questo più tardi veloce prendi una spada dalla hallway che non mi ricordo più che cos'era vabbè è la stanza iniziale occhio alle trappole e buona fortuna fratello eh andiamo io mi porto dietro il pig il piglet sennò qua siamo nella merda oh qua si può andare oh c'è un arco delle frecce una torcia delle mele e una una pozione che si chiama snus non usate cosa sia non usarla questa fa veleno 33 secondi forse ci servirà fra poco mini occhio al piglet il piglet se lo sta dando dove minchia va oh ecco attrailo non viene sto babbo di minchia dai dai vieni va dove cazzo va lui muoviti muoviti oh qua ci sono due spade vaffanculo dammene una prendita è lì secondo me il piglet non ci serve però dici di portarselo dietro no no non ucciderlo forse ci serve forse no però ritorniamo di qua che ti devo dire oh sta cazzo di cosa vaffanculo ok ci sei io qua ci sono eh però ah dobbiamo tornare di sotto forse proviamo a me sta laggando troppo devo dare un'occhiata va figa sta laggando che palle oh segui eh mi sta laggando tutto aspetta 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 volete sapere che cosa c'è di qua lo saprete nel prossimo episodio direi ok vai al prossimo episodio vi ricordiamo di mettere mi piace a tutte e due a tutti i canali di visitare il mio se lo state guardando dal canale di Facco di visitare quello di Facco se lo state guardando dal mio canale di mettere mi piace di iscriversi a entrambi i canali e alla prossima puntata eh ciao